Dobbiamo cercare di dare un futuro a noi stessi, non solo a noi, ma anche ai nostri giovani. Lei non è arrivato, l'importante è che diventi senatori. Quando la facciamo con l'intervista? Dateci la possibilità di costruire il vostro futuro qui! Ho fatto la mia scelta, ho preso la mia decisione.